benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 11 ottobre 2021 questo è il canale 17 di fano tv c'è l'informazione di prima mattina come sempre in diretta sul canale 17 un'occhiata ai giornali che daremo tra pochissimo con le notizie che troverete sui giornali Carlino Corriere in edicola questa mattina con gli inserti sportivi chiaramente a farla da padrone perché essendo lunedì c'è tutto lo sport del fine settimana ma andiamo a vedere subito il santo e poi il tempo per la giornata di oggi oggi è San Giovanni XXIII il sole sorgerà le 7-18 e tramonterà le 18-33 un po' di pioggia questa mattina qualche breve rovescio fenomeni che comunque si esauriranno entro le prime ore di questo pomeriggio temperature minime stazionari massime lieve aumento per la giornata di domani martedì avremo giornata praticamente soleggiata con qualche nuvola medio alta ma mercoledì torna la pioggia il 13 ottobre temporali un po' ovunque in particolare dalla tarda mattinata avremo rovesci sparsi condizioni di miglioramento nei giorni successivi adesso la prima pagina del Corriere Adriatico edizione pesarese il tema principale di oggi il giornale lo dedica alla candidatura di Pesaro alla cultura 2024 capitale della cultura 2024 sfida capitale il modello è Parigi Pesaro progetta la città da 15 minuti per servizi e collegamenti quindi smart veloce partner e sponsor da coinvolgere il comune deve presentare il dossier al ministero entro il 19 a centro pagina lo sport la vis fa il colpo grosso a Lucca i biancorossi vincono in rimonta 1 a 2 poi la cabina di regia prevista per oggi terza dose e influenza vertice sui vaccini e sempre dalla prima del Corriere le notizie in breve da Pesaro scontri a Roma anche pesaresi tra gli identificati su stazione Gauss Gambini chiede il conto al comune e a Monteporzio famiglie soccorse a causa delle canne fumarie ostruite arriva il freddo si riaccendono i camini ma solitamente ci si dimentica poi di dare un'occhiata alla canna fumaria poi succedono un po' queste cose adesso c'è tempo piove dentro la palestra invece odissea ladini salvalai infiltrazioni le squadre non possono giocare adriatica volley l'amministrazione dice sapeva per la VL invece a Bologna una sconfitta pesante 87 a 66 andiamo adesso a vedere invece la prima del Carlino Carlino di Pesaro VL così no festa vis sono i due sport pesaresi crollo in casa fortitudo Banchini sbanca Lucca mentre il titolo d'apertura salto alla CGL presidiata la sede Cracco invece lo chef Cracco e gli esordi alla scuola alberghiera dice ammette lui avevo 4 in cucina ha premiato lo chef a Sant'Angelo Invado e poi nozze e divorzi ormai vanno di pari passo le tendenze dell'amore lo scomparso invece è tornato a casa sto bene dice sistemerò tutto finisce contro l'auto a Fossombrone dentro il recinto di una casa miracolato RSA invece il governo impone il vaccino ma i controlli sono un rebus sotto sempre sanità e proteste i sindacati l'ospedale dà il ben servito agli os Fano rimontato a Chieti finisce pari Granata avanti con Tortori poi l'uno a uno dei locali l'alma resta in dieci ma regge fino alla fine la pallavolo Megabox graffia le campionesse sconfitta e onore le tigri battute a Conegliano le ragazze di Vallefoglia lottano alla grande coach Bonafede dice ho visto tanto coraggio allora andiamo a vedere adesso le pagine che ho selezionato per voi questa mattina qualche piccolo commento poco perché c'è poco da commentare c'è solo da fare silenzio in queste situazioni così complicate ma comunque cercheremo di darvi qualche spunto anche questa mattina per una riflessione terza dose parliamo di terza dose over 60 quindi a più di 60 anni e poi i sieri anti influenza si decide l'iter e il piano allora che cosa succede si accelera sulla somministrazione della dose di rinforzo anti covid questa mattina l'assessore regionale alla sanità delle marche Filippo Saltamartini parteciperà a quella che viene chiamata la cabina di regia dove si dovrà fare il punto sull'organizzazione di questa nuova fase della campagna vaccinale perché è tutt'altro che finita anzi continuerà continuerà probabilmente a lungo secondo le prime indicazioni del commissario figliuolo le terze dosi si verranno verranno somministrate negli hub e nei centri vaccinali quindi poco m'è successo fino a questo momento poi nei prossimi mesi si punterà al coinvolgimento dei medici di famiglia e delle farmacie sul territorio ma è interessante leggere questo pezzo dove appunto maria teresa bianciardi del corriere scrive le terze dosi inoltre potranno essere somministrate insieme al vaccino anti influenzale in un'unica seduta vaccinale e questo è un punto che dovremmo dice Saltamartini analizzare in maniera approfondita perché l'organizzazione sarà determinata anche da questo quindi ci saranno terze dose più il vaccino anti influenzale l'anno scorso mi dicono l'influenza non c'è stata anche questo è un mistero bisognerà capire perché l'anno scorso non c'era quest'anno c'è non si capisce ma comunque quest'anno tornano in auge anche i vaccini contro l'influenza quella normale che l'anno scorso evidentemente è andato in ferie però quest'anno appunto c'è il 3x2 quindi si sta pensando oltre al vaccino più la porchetta o la pizza per chi decide di farlo c'è anche il 3x2 quindi uno va lì si fa due bei vaccini e quindi uno per l'anti influenzale e uno per l'anti covid quindi questo è un po il quadro secondo ma oggi nella cabina di regia si deciderà insomma che cosa che cosa fare e in che modo farlo soprattutto per i marchigiani intanto la terza dose è stata somministrata a quelli diciamo alle persone fragili quelli che hanno più di 80 anni quelli in tanti sono andati a farlo insomma e adesso invece ci sta pensando di renderla in qualche modo obbligatoria anche per quelli che hanno 60 anni eccetera eccetera insomma non è finita insomma si prosegue andiamo sulla pagina invece 5 del resto del carino c'è la fotografia di questo signore paolo carotti di 55 anni pesarese scomparso dalla mattinata dell'alba del venerdì precedente stava rientrando nella sua casa la moglie elisabetta e la sorella hanno sentito girare le chiavi nella porta poco prima della mezzanotte e quindi è rientrato era sparito allontanandosi in bici e portandosi dietro solo uno zaino scrive alessandro mazzante sul giornale di questa mattina sul carlino lui sta bene stanco dopo aver passato una notte fuori girando per ore senza senza meta insomma metterò le cose a posto dice lui l'assessore belloni era pronto a mobilitare le ricerche poi per fortuna insomma tutto è rientrato mentre i matrimoni matrimoni pari ai divorzi nell'anno del covid un'altra notizia che troverete a pagina 4 del carlino nel conteggio non ci sono le separazioni tra coniugi e conviventi in motivi del sogno d'amore infranto l'individualismo i matrimoni tengono ma i divorzi viaggiano di pari passo c'è tutta un'analisi con questo riquadro che sintetizza un po la situazione dal 2015 al 2020 matrimoni civili matrimoni religiosi e quelli che sono i divorzi vedete siamo qua in fondo nel 2000 nel 2020 2020 100 matrimoni civili o 38 matrimoni religiosi divorzi 120 siamo sulla pagina 6 invece del resto del carlino siccità e bombe d'acqua le conseguenze in tavola qui c'è il problema della della pioggia la siccità anzi al contrario della siccità estiva che ha quasi dimezzato il raccorto della vendemmia con una riduzione media del 30 per cento mentre i recenti acquazzoni con forte raffiche di vento hanno ridotto del 20 per cento il raccolto delle olive infatti purtroppo questo vento impetuoso ne ha buttate giù tantissime intanto i costi delle materie prime sono schizzati alle stelle queste stando alle rilevazioni della col diretti le conseguenze di un'estate ritenuta anomala per le coltivazioni in cui a mesi di caldo intenso si sono alternate nell'ultimo periodo vere e proprie bombe d'acqua ma anche l'effetto degli aumenti indiscriminati che hanno colpito un settore già in affanno poi del rico scrive un po' anche insomma intervistato di sante da col diretti che dice gli agricoltori fanno i conti anche con l'aumento dei costi con cimi che sono passati da 35 a 65 euro alla quintale poi sempre da dalla pagina 6 fanno urbino da fossombroni guardate questa fotografia si vede bene questa è una macchina che è finita guardate quasi dentro la casa una casa ha superato il guardrail un'auto piomba dentro una casa residenti sotto shock lui per fortuna è rimasto tuellese lui è un trentenne di cagli che l'altra notte verso l'uno e mezza mentre alla guida del proprio range rover rientrava a casa a pian cerreto all'uscita di fossombroni in direzione calmazzo forse un colpo di sonno è andato a sbattere contro un guardrail finendo dentro il recinto di una abitazione poi si parla della ciclovia i comuni parlino chiaro il comitato chiede una posizione netta contro la regione sempre da fano invece il corriere questa mattina racconta di un disagio di un disagio in una delle palestre storiche della città di fano ladini salvalai il comune sapeva ignorate le richieste alternative pioggia in palestra il volley trasloca in extremis a lucrezia il dirigente luci dice silenzio su bellocchi e cucurano insomma una scena quella che vedete con i secchi dove gocciola dove piove insomma è una scena che non è la prima volta che che si vede qui l'articolo di massimo foghetti con anche alcune dichiarazioni al vetriolo mentre bocce paralimpiche la coppia più bella d'italia è fanese per de marchi e anniballi affilati affiliati scusate la combattente quinto titolo praticamente in sette anni manuel de marc e manuel anniballi dopo il quinto titolo di coppa vinto nella categoria c 21 di bocce a roma davvero complimenti poi l'erosione l'erosione il problema della costa delle degli scogli che non non ci sono l'erosione il mare che in questi giorni di tempesta di vento di fortunale insomma ha eroso e ha insomma rimesso un po in luce quelle che sono le criticità ormai diffuse intervenite subito questo è il titolo d'apertura prima mareggiata l'appello di mauro mandolini presidente dei balneari di oase confartigianato a ottobre si parte con le scogliere di metauriglia sassogna le risorse sarebbero in arrivo quindi pare che almeno stando così a quello che viene scritto da osvaldo scatassi sul core adriatico insomma che comunque la situazione dovrebbe migliorare nel corso dei prossimi mesi quindi si dovrebbero costruire queste mettere giù queste queste scogliere mentre da monteporzio come dicevamo questa famiglie queste famiglie che hanno avuto problemi con la prima accensione del camino ostruite le canne fumarie soccorsi per due famiglie lavoro doppio nella notte per i vigili del fuoco a monteporzio e a terre roveresche piano rifiuti siamo a san costanzo chiesto consiglio monotematico i consiglieri di minoranza puntano all'assisi aperta chiarezza sull'assemblea mentre a san lorenzo la mensa è ancora biologica ora più risorse auspicio di dellonti e conti vero momento didattico e adesso andiamo invece a pagina 21 è il corriere di macerata però è una notizia tra l'altro con questa fotografia molto molto bella anche se qui è piccolina ma comunque vabbè parliamo di un orso che è stato avvistato sui monti sibillini ed è stato ripreso con il telefonino da una guida monachesi dice è stata una grandissima emozione il filmato integrale consegnato poi all'ente parco una passeggiata in solitaria sui sibillini ed ecco che davanti ai suoi occhi appare un orso marsicano sotto la pioggerellina battente ed è un incontro eccezionale di cui è stato protagonista sabato mattina la guida ambientale appunto filippo monachesi di macerata si tratta di un avvistamento unico nel suo genere visto che l'ultimo orso immortalato sui sibillini dalla fototrappola di un dispositivo elettronico è stato ulisse che era dotato di radio collare di cui per alcuni anni gli esperti del parco hanno studiato i movimenti quindi è una insomma è stata una bella sorpresa vedere e adesso speriamo che possa restare lì indisturbato senza che qualcuno gli venga in mente strane cose primi fiocchi di neve invece in montagna le immagini catturate dalla webcam gli impianti pronti a ripartire il 4 di dicembre e anche noi abbiamo la possibilità le nostre belle montagne dai sibillini fino al catre nerone carpegna di godere anche di dei posti di montagna dove si può fare anche qualche piccola sciata e adesso partiamo con lo sport le pagine sportive il fano sfiora l'impresa chieti finisce in parità chieti fanno uno a uno segna tortori ma fabrizi pareggia poi viene espulso dell'icarri buon punto dunque in trasferta gioffre la natura del fano è soddisfatto lo spirito dice quello giusto bella reazione in inferiorità numerica potevamo anche vincerla mentre la vis mette la freccia vince 2 a 1 a lucca gol di bellici lucchese in vantaggio con strada subito tutta in salita per l'undici bianco rosso manetta firma la rete del pareggio sugli sviluppi di un corner gucci invece quella del sorpasso all'ottantesimo crisi samb vola il portodascoli samb 0 portodascoli 2 un'altra umiliazione per il rosso blu battuti alla riviera anche nel derby e ancora 0 punti napolano sblocca il risultato del primo tempo battista raddoppia dopo aver fallito un rigore l'urbani invece che vince nel campionato di eccellenza col paccio dell'urbani a primo stop per la jesina jesi che perde in casa 2 a 0 appunto contro l'urbani a gara chiusa in un tempo gli ospiti dominano l'incontro con fraternali e cusimano poi il fossombrone corre forte battuto anche il porto santi alpidio fossombrone che vince in casa un gol di pagliari dopo dieci minuti basta alla squadra di fucili per conquistare altri tre punti e poi la vigor senigallia che vince fuori casa d'urbino pesaresi lancia la vigor l'urbino si sveglia tardi due magie del capitano decidono la gara tamagnini nel finale a corcia per i padroni di casa chiudiamo con la vl vl al buio vl che ha perso come dicevamo a bologna per 87 a 66 la fortitudo può risorgere pesaro alterna qualche cosa buona e tante altre brutte bologna centra la prima vittoria della stagione praticamente dilagando e poi carpegna prosciutto ancora cappa o in trasferte in una partita tutta da dimenticare voi invece ricordatevi se avete la pazienza la voglia di seguirci questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale occhio la notizia ci ritroveremo per le notizie del giorno intanto grazie per essere stati con noi buona giornata